Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Equino Vlogs Oggi sono qui per portarvi un nuovo video su Call of Duty Infinite Warfare Oggi ragazzi sono qui per provare insieme a voi un'arma che ho appena sbloccato Sto parlando del Banshee Doppler Un'arma che ho visto utilizzare da uno youtuber in un video E mi ha incuriosito veramente tanto Tanto che sono andata e me la sono sbloccata Grazie a Dio avevo 4000 ingranaggi, quelli che mi servivano appunto per sbloccarle Fortunatamente avevo le versioni presenti quindi ho potuto appunto sbloccarla E' un fucile a pompa veramente strano raga Che praticamente di base, il Banshee di base Spara dei, cosa lo saprete tutti Dei, praticamente delle onde sonore, non ho ben capito Cioè non sono dei veri propri proiettivi Sono tipo delle onde sonore Questa specie di cerchi no che compaiono Ehm, intanto c'è uno che fa casino come al solito Ma in particolar modo questa versione qua ne spara 3 alla volta Come un mitra praticamente Dando vita a quest'arma stranissima raga Un pompa veramente devastante Se utilizzato nel mondo giusto Se no inutilizzabile praticamente Oh ma raga ma è possibile che ogni perita che faccio c'è uno che faccia bordello Dicevo, perché è un'arma molto strana raga? Perché è un'arma potenzialmente fortissima da vicino Ma allo stesso tempo anche potenzialmente inutile Completamente inutile Se utilizzata nel mondo sbagliato Perché è un'arma che va utilizzata solo da vicino praticamente Ehm, e con la scivolata Cioè è un'arma che è veramente devastante Se voi scivolate andate incontro ai nemici Mentre è completamente inutile Se utilizzata da lunghe distanze Da medie distanze Cioè devi essere proprio vicino La cosa buona però è che il fatto che spari tre colpi Vi permette praticamente di non cannare mai i colpi Se avete un nemico a fianco Cioè non è come un pompa normale Con il quale potete tranquillamente fallire la kill Anche se avete il nemico appiccicato No, quante volte vi capiterà di morire con un nemico davanti Anche se avete il pompa Ecco, con questo è impossibile Perché l'arma spara appunto tre colpi Ed è impossibile fallire appunto un gunfight da vicino Se avete questo pompa in mano Veramente una cosa, ragazzi, assurda In pratica le prime partite quando la si utilizza Sembra di utilizzare un'arma scarsissima No, fa proprio schifo Dalla seconda in poi Vi sembra veramente di essere immortali Perché da vicino Quando imparate appunto utilizzate nel modo giusto da vicino Questo tipo mi mette in serie difficoltà Perché non so come ucciderlo Però facciamo così, non me ne frega un cazzo Perché Oddio Dicevo, quando siete vicini appunto alle persone Siete veramente, veramente Immortali Guarda, cioè raga State guardando quanto cazzo è forte questa cosa Cioè è una cosa illegale, raga Vi giuro che è fottuta Porca tranne uno dietro Eh, sono morto Era lì che mi aspettavo Pensavo che mi stesse pushando Va bene Io sinceramente l'ho voluto fare questo video Perché Diciamo che non sono il tipo Che prova tante varianti di armi Su questo gioco Cioè ce ne sono un'infinita raga Ma fondamentalmente Quanti video realmente ho fatto In cui li provo Soprattutto quante ne ho sbloccate Volutamente io Ma pochissime Questa però mi incuriosiva Veramente un botto Cioè l'ho vista utilizzare ripeto Da uno youtuber Che non mi ricordo neanche Cazzo era uno youtuber americano In un video a caso E ho detto Minchia la devo avere Cioè quest'arma è bellissima Cioè è una cosa troppo figa Raga Tra l'altro io non sono il tipo Che utilizza i pompa Lo sapete benissimo Perché le trovo armi Bastanza stronze E inutili E non utilizzerò mai Quest'arma In partite normali È un armi però Secondo me divertentissima Cioè da utilizzarla In partite tipo TCT Cioè guardate quanto sto facendo 22-1 Partita poi tra l'altro In una mappa così grande Che non è adatta Per i fucili a pompa Tutto questo perché Sto utilizzando l'arma Nel modo corretto Cioè una cosa veramente Allucinante raga Io vi consiglio Assolutamente di sbloccarla Se avete i punti Perché non vi repentirete Guardate ragazzi È una cosa Ridicola Cioè praticamente Se voi avete un nemico davanti Non può uccidervi Cioè non esiste modo Per farvi fuori Questo è proprio Come vincere tutti i gunfight Da vicino Contro i nemici E qua Qua sono lontano Questo è un mio errore Ecco Cioè questa è una cosa Che non dovete fare Correre incontro ai nemici Sono loro che devono venire da voi Se vi ritrovate a fianco La probabilità di morire È veramente Inesistente praticamente Mori Perché ripeto Il fatto che spari tre colpi Vi dà proprio la sicurezza Del colpire i nemici Cioè Il problema del pompa È che spara un colpo alla volta Assolutamente no? Questo invece ne spara tre Velocissimo Ma che cazzo È sto Così no? Dov'è? C'è un nemico qua Ma dov'è quello che fa casino raga? Ah non è ancora aggiornato Mamma mia Li odio quelli che entrano Con le cuffie attive Cazzo Mi raccomando Se lo sbloccate Ricorda sempre di scivolare Quando Spalate raga Sempre Sempre Oddio L'ho perso di vista Let's go Raga Io vi invito a provare quest'arma Prendetevela Sbloccatevela E fatemi sapere Se vi piace Ratio 15 intanto Saree di 14 Vi invito a lasciare un like E noi ci becchiamo A un prossimo video Bella Ciao 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 Ciao